Ultimo concerto per lo Youth Music Festival è in programma domenica 14 novembre al Teatro Petrarca di Arezzo. Il festival ha portato sul palco giovani talenti della musica classica, condividendolo con lo stesso direttore artistico Giovanni Andrea Zanon. Dopo i successi dei primi tre eventi, la seconda edizione dell'Arezzo Youth Music Festival, dice Zanon, si concluderà con un meraviglioso concerto che proporrà due capolavori della musica da camera come il Quartetto per pianoforte, opera 47 di Schumann, ed il Quartetto per pianoforte, opera 25 di Brahms. Insieme a Giovanni Andrea Zanon ci saranno il pianista russo Dimitri Maslev, il violoncellista colombiano Santiago Cannon Valencia, la violinista sudcoreana Kyungmin Park. Non solo musica a teatro ma anche a scuola sono state infatti rinnovate le collaborazioni con alcuni plessi scolastici della città proprio per far circuitare la musica e il suo messaggio.